Genoa Boat Show 2018 Salone nautico di Genoa 2018 Siamo sul Kufner 54 Una delle barche che hanno riscosso più successo qui a Genoa Successo ottenuto perché si tratta di una bella barca Ma soprattutto per via del suo prezzo, 279 mila euro Un prezzo realmente molto basso Specialmente se si considera che questo include Quasi tutto quello che serve per poter navigare Qui con me ho Damir Kufner Uno dei due proprietari del cantiere croato D&D Yachts Hello Mr. Kufner Can you explain us? Ci puoi spiegare come ha avuto l'idea di questa barca E soprattutto come ha potuto realizzare una barca con un prezzo così basso L'idea per questa barca è nata dalla nostra esperienza nel charter Dopo dieci anni di charter e dopo aver analizzato gli altri cantieri europei Facendo la manutenzione delle loro barche presenti nella nostra flotta Costituita da 54 imbarcazioni Abbiamo deciso di costruire una barca per conto nostro Grazie alla mia precedente esperienza nel settore dei grandi generatori Sono arrivato alla determinazione di fondare una nostra azienda E così insieme ad alcuni miei colleghi del charter Ad alcuni architetti e ingegneri Abbiamo iniziato a disegnare una barca da zero Il nostro obiettivo era costruire una barca che fosse solida e molto più facile da mantenere di altre barche Questo perché, grazie alle nostre 54 barche, conosciamo tutti i loro punti deboli E' quello che non va bene per i charter Se fai il charter è per guadagnarci e non puoi fare utile se paghi la barca 400.000 euro Per questo sin dall'inizio abbiamo posto una grande attenzione ai costi di produzione E abbiamo cercato di ottimizzare tutto E questo è il risultato Poi avevamo una barca con dislocamento abbastanza pesante Ma con le linee di carena di un performance Una barca veloce che però non mettesse paura ai suoi ospiti Le maggiori innovazioni sono negli interni Interni che sono il prodotto dell'opera di due giovani architetti di Zagabia Che non erano mai stati su una barca E questo ha permesso di disegnare senza alcun preconcetto Gli architetti hanno realizzato tre disegni molto innovativi Ne ho scelto uno e quello che vedete è il risultato Definirebbe questa barca come un performance o come un cruiser? Cruiser, sicuramente un cruiser La nostra idea era di realizzare una barca di 20 tonnellate Che desse ai nostri clienti, ai nostri ospiti sicurezza, affidabilità e comodità Tutto sulla barca è disegnato per il comfort In particolare noi abbiamo voluto costruire una barca che piacesse alle signore Ci puoi descrivere quello che troveremo sotto coperta? Internamente troverete un disegno molto originale Studiato per ospitare molte persone Oggi le barche sono usate da molti giovani Che quando vengono a bordo hanno bisogno di spazio per fare le loro feste Così abbiamo voluto realizzare una barca per fare festa Quante cabine e quanti bagni ha questa barca? Quando si realizza una barca indirizzata prevalentemente al charter Bisogna avere il maggior numero possibile di cabine e bagni Per questo abbiamo 5 cabine e 4 bagni È una dinette veramente molto grande Se fossi interessato a comprarla Posso chiederle ad esempio di averla con 3 cabine? Non solo 3 cabine ma può averne 2, 4 cabine, 0 cabine Può farsi fare un disegno degli interni dal suo architetto E noi lo realizzeremo per lei Siete molto elastici Sì, siamo una piccola azienda e siamo molto adattabili Un'ultima domanda Il prezzo di 279 mila euro è un prezzo fisso che non cambierà O quando inizierete a vendere le barche lo amo in terete? Sicuramente lo dovremo aumentare Ma di quanto lo deciderà il mercato? Ok, grazie molto Così finisce la presentazione del Kufner 54 Non mi rimane altro che darvi appuntamento alla prossima anteprima da Genova